amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportive oggi abbiamo questa qui l'abbiamo già fatta vedere quindi la lasciamo la lasciamo ai posteri volevamo riprendere questa altra chicca che abbiamo già presentato precedentemente a inizio lavorazione adesso diciamo che siamo a un punto abbiamo quasi terminato ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare però diciamo che siamo già quasi al 90 per cento quindi ne approfittiamo per farvela vedere direi lucida come non era quando ci è arrivata anzitutto inquadriamo la macchina è una alfa 156 sport vagon con il motore 2005 v6 busso quello da 190 cavalli una macchina veramente particolare il cliente proprio l'ha cercata esattamente con questa conformazione quindi di questo colore la voleva di questo colore il v6 busso ovviamente era una prerogativa essenziale con il tetto apribile e quindi è una macchina veramente molto molto particolare al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche se vi andate a rivedere il video precedente abbiamo descritto quello che era il motore la particolarità della macchina questo motore qua è stato diciamo al di là della al di là della bellezza del motore che parla da solo con questi sei condotti lucidati a specchio devo dire proprio fa fa godere gli occhi un motore di questo genere non ne fanno più motori di questo tipo devo dire un gran bel pezzo di tecnologie di orgoglio italiano direi proprio fatto molto molto bene potevano essere criticabili queste macchine quello che vogliamo però a livello di 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 assemblaggio di di finiture chiaramente soffrivano molto di quello che erano di quello che era la concorrenza con le vetture tedesche però un motore del genere non ha forse all'epoca potrebbe essere l'M3 la sua diciamo antagonista più diretta ma devo dire veramente un gioiello di tecnica quello che abbiamo fatto su questa macchina sostanzialmente abbiamo diciamo sistemato tanti piccoli dettagli veramente tanti piccoli dettagli per cercare di portarla a uno stato diciamo di di integrità strutturale e di coerenza con quello che è la diciamo il lo stile della vettura il più perfetto possibile quindi la vettura è stata completamente lucidata è stato applicato il quello che noi chiamiamo il trattamento nanotecnologico quindi se uno al tatto chiaramente non si può col video non si può però al tatto veramente è una come dire è veramente piacevole toccare questa finitura perché molto liscia molto bella da 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 toccare e devo dire che è una protezione che diciamo dura nel tempo per almeno due anni che non è un trattamento che noi facciamo su macchine particolare o macchine nuove che vogliono presse il cui cliente vuole preservare l'integrità della vernice o macchine molto particolari che vengono appunto lucidate e poi viene dato questo questo trattamento positivo una delle cose che dobbiamo ancora fare dobbiamo concentrarci sui sul discorso cerchi e freni perché come vedete è ancora rimasto allo stato grezzo quindi cerchi andranno completamente smontati andano riverniciate nel colore originale perché sono non sono diciamo particolarmente rovinati però si vede che sono opacizzati i mozzi dei dischi andranno anche quelli puliti e verniciati le pinze dei freni anche in questo caso che sono l'andaria del tempo le ha veramente rese brutte dal punto di vista estetico verranno sabbiate e verniciati in nero così come le anteriori che sono già già posto all'interno manca ancora alcune finiture abbiamo ripristinato la selleria che era in alcuni punti rovinata dobbiamo ancora montare i fondini degli strumenti perché quelli originali hanno sono leggermente rovinate in una crepa diciamo in mezzo diciamo che mancano veramente poche cose contiamo nel giro di validare la carrozzeria diciamo una decina di giorni col discorso cerchi e quant'altro di terminare tutte queste piccole finiture che mancano però diciamo che ormai siamo in dirittura d'arrivo ci teniamo appunto a farvela vedere la promessa era quella di farvela vedere quasi a fine lavoro non è proprio finita al cento per cento però grosso modo si vede il lavoro che ne è emerso io direi che anche per questa 156 sport wagon è tutto per qualunque genere di formazione mi potete contattare in sede come spesso fate anche per semplici consigli o se sono sempre disponibile cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto vi chiediamo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao 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 ciao